bella rega aggiungo un video sul mio canale e oggi continuiamo Bioshock 3 Infinity ok ok poi ho preso un mio armadietto, prendiamo tutto potete vedere una cosa, comunque, mi fa vedere una cosa, e dopo gioco ok 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 Non c'è niente che ci può aiutare Ok Andiamo prima di tutto No Non sono amici Abbiamo compagnia Proprio così Perché mi state seguendo? Eravamo già qui Perché tu segui noi Io Aperitivo? Portafoglio Tra poco ti farà comodo La differenza tra la vita e la morte Ok Un po' come burro Che ti danno il coso Sangue sulle strade Ma l'insulto è ancora peggiore Perché oggi è il giorno che segna la secessione della Sodoma sotto di noi Wow Per fortuna il dannato Sky Oak è magnetizzato Oh 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 Oh. Ma va per me, no? Smettila di nasconderti! Preparati! E darà una lezione! Sircondatelo! Passateli dietro! Tenetelo bloccato! Morte! Non vai da nessuna parte! Deton! C'mon, bitch! Ok Come avre visto il profeta, è giunto e fa la parola. C'è venuto per trattare il trattamento. No! Ti uccideremo! Non fatelo sparare! Non sei niente! Non fatelo! Non fatelo! Non fatelo! Non fatelo! Tagliategli le vie di fuga! Per finire! Non fatelo! Non fatelo! Non fatelo! Non fatelo, non fatelo? Non fatelo, non fatelo! ranged agirare! Mi dà! Il procaeta ha revisto la rivoluzione ed è blocco! La risposta non è il passo, ma la preghiera. Non fatelo muovere! Chi sentirà? Mi incontrano! Spazzatelo via! Venetano bloccato! Siamo in Daniele! Ero il riparo! Entrate là dentro! Grazie a tutti ok il posto Ehi, va tutto bene, non solo come gli altri, sono un progressista. Ehi, va bene, va bene, va bene. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non funziona? Continuiamo allora. C'è la chiave. 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 C'è la chiave.